Ciao, mi chiamo Michela e oggi ti racconterò una favola. Questa è la favola di Chicca e la gallina saggia. Chicca aveva nel suo pollaio solo una vecchia gallina spennacchiata, che le faceva però un uovo al giorno. Lei avrebbe voluto avere due galline. Con due uovo al giorno diventerai una signora. Finalmente si decise e una domenica mattina andò al mercato per comprare la seconda gallina. Lungo la strada, Chicca si divertì a calcolare quanto avrebbe guadagnato vendendo un uovo al giorno. E arrivò alla stupefacente conclusione che con le vendite e i risparmi sarebbe riuscita a trasformare la piccola fattoria in un grande palazzo. Lei stessa avrebbe potuto indossare abiti di lusso, avere dei servitori e vivere senza fare più nessuna fatica. Al mercato, contrattando, Chicca acquistò una gallina che il venditore le assicurò avrebbe deposto un uovo tutte le mattine. Era proprio la gallina che tanto desiderava. La nostra amica pagò coi suoi risparmi l'importante acquisto e sistemò con cura la gallina dentro il cestino che si era portata dietro. Quindi riprese la strada per la fattoria. Cammin facendo, Chicca colmò la gallina di mille attenzioni e carezze. Vedrai come starei bene nel pollaio della mia fattoria, lei diceva. Non ti mancherà nulla, anzi, se mi prometti di fare un uovo al giorno, ti darò il pastone che è sano, ottimo e abbondante, del gran turco e dell'orzo. E ogni giorno ti farò il nido con la paglia fresca. Sarai la gallina più coccolata di tutto il villaggio. Anzi, non ci sarà gallina al mondo che starà meglio di te. Giunti alla fattoria, la gallina nuova ricevette un'abbondante razione di cibo, oltre a un sacco di complimenti e di premure. Al contrario, Chicca si dimenticò di riempire la scodella della gallina vecchia, benché questa cercasse, starnazzando e battendo le ali, di richiamare la sua attenzione. La poverina dovette accontentarsi, per quella sera, di riempirsi lo stomaco con l'acqua rimasta nell'abbeveratoio delle mucche. Era intanto venuto il momento di andare a dormire, e Chicca preparò il nido alla nuova arrivata. Prese un bel cestello e lo colmò di paglia fresca e morbida, trasformandolo in un giaciglio comodo e caldo. Poi sistemò il nido al centro del pollaio, lontano dalle correnti d'aria. Nulla invece fece per la vecchia gallina, la quale dovette accovacciarsi sul solito mucchietto di paglia secca, in un angolo pieno di spifferi. L'indomani, Chicca, appena alzata dal letto, corse al pollaio per accertarsi se la gallina nuova aveva dormito bene e se aveva già fatto l'uovo. Ma appena aprì la porticina, la gallina nuova uscì fuori di corsa, e Chicca le andò dietro gridando, «Perché scappi via? Torna subito nel pollaio!» «Nel tuo pollaio?» rispose la gallina, «ma neppure per sogno, non sono matta!» «Perché, dici così, non ti ho forse trattato bene?» «È proprio perché mi hai trattato troppo bene che me ne vado!» «Io l'ultima arrivata sono stata coccolata, rimpizzata di lecornie e sistemata in un bel nido caldo, mentre la gallina vecchia è stata lasciata senza cena e al freddo. Se restassi con te e tu comprassi un'altra gallina, prima o poi subirei la stessa sorte. Chi tratta i nuovi amici meglio di quelli vecchi non mi persuade e non mi piace affatto!» E con un volo scomparve oltre il recinto, lasciando Chicca definitivamente. La morale è, se non vuoi perdere i nuovi amici, tratta bene anche gli amici che avevi prima. Spero la fiaba ti sia piaciuta! Se sì, metti un mi piace e lascia un commento! Se ancora non ti sei iscritto al canale, iscriviti! E alla prossima favola! Ciao!